Con le fasi finali di ieri si è consacrato lo straordinario successo dell'edizione 2009 della Colosseum Cup, manifestazione calcistica giovanile targata insieme sport eventi, riservata alle categorie giovanissimi, esordienti e pulcini, che ha alzato il sipario domenica scorsa nella favolosa cornice del Salaria Sport Village di Roma. Una imponente macchina organizzativa quella dell'evento, che ha coinvolto oltre 36 rappresentanze provenienti da numerose regioni dello stivale, che si sono avvicendate sui terreni di gioco del prestigioso centro sportivo romano. La manifestazione ha annoverato numerosissime presenze, tra giovani atleti, tecnici e dirigenti, suscitando l'interesse e la mobilitazione di molte migliaia di appassionati, con la supervisione di un ospite d'onore di notevole spessore, il mister Ferdinando Orsi. Alla manifestazione torneistica della Insieme Sport Eventi hanno preso parte società blasonate, tra le tante anche un nome del calibro della SS Lazio. Il Salaria Sport Village, prossima sede del Mondiale di Nuoto, ha vissuto tre giorni di calcio e divertimento molto speciali, in un vernissage giovanile che non ha deluso di certo le aspettative di partecipanti e pubblico. Particolarmente fitto il programma gare per tutte le concorrenti, che domenica scorsa hanno disputato un doppio impegno giornaliero. A scendere in campo le rappresentative dei giovanissimi 95 allo stadio comunale di Guidonia, mentre il 97, 98, 99 e 2000 hanno inaugurato la loro prima intensa giornata al Village di Via Salaria. Ieri, lunedì 1 giugno, si sono completate gli impegni di Girone per la prima fase, mentre la giornata conclusiva di questa mattina ha conosciuto il suo epilogo con le finali di tutte le rappresentative partecipanti all'evento. Nella categoria giovanissimi 95 si è registrato un trionfo targato a Bruzzo, con la vittoria del Renato Curipoggio, che ha avuto la meglio sui laziali del Guidonia. Alla romana nuova tortre teste, le vittorie nelle categorie esordienti 97 e Pulcini 2000, prime classificate anche la Libertas Centocelle per la categoria 99 e di padroni di casa del Fidene nella categoria 98. Piacevole anche la cerimonia di premiazione, che ha regalato momenti di gioia e divertimento indistintamente per tutte le squadre a corse al torneo della Capitale. Soddisfatti anche gli organizzatori per il trionfo degli aspetti più sani di questo evento, valori sportivi ed aggregazionali, un grande successo dei valori fondanti della pratica sportiva. Passione, lealtà, amicizia e socializzazione sono i veri obiettivi che si è proposta l'Associazione Romana attraverso tutte le sue speciali iniziative e i risultati per ora parlano assolutamente a suo favore. Grazie. Grazie.